Questa sera, domenica 2 novembre 2014, su Rai3 ci attende un nuovo appuntamento con il report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Milena Gabbanelli. La quinta puntata si intitola Siamo tutti o che insieme a Sabrina Giannini ci inoltreremo in un viaggio scioccante alla scoperta della spiumatura. Non perdiamo altro tempo ed entriamo nel merito della serata grazie alle nostre immancabili anticipazioni. Per la prima volta le telecamere di un programma televisivo sono riuscite a documentare la spiumatura, una pratica barbara sulle ocche vive in Ungheria. Si tratta di un'attività assolutamente illegale ma largamente diffusa all'interno della comunità europea, prima responsabile per la mancata vigilanza per l'assenza di controlli su un regolamento che permette con estrema facilità di riciclare la piuma illegale. L'inchiesta di Sabrina Giannini parte dall'imbottitura del piumino più alla moda nel nostro paese prendendo in esame tutti i passaggi dalla confezione alla delocalizzazione. Un'indagine ad ampio raggio anche dal punto di vista geografico sulle scelte di alcuni marchi della moda italiana che si spingono addirittura in territori non riconosciuti dall'ONU pur di risparmiare pochi euro su capi venduti a prezzi elevati nei negozi. Si tratta della transinistra, la repubblica autoproclamata se indipendente dalla Moldavia nel 1990 dove le griff di moda sono benvenute mentre i giornalisti come avremo modo di scoprire questa sera a report è decisamente meno.